La discarica di podere rota ha esaurito i volumi disponibili e scatta così lo stop ai conferimenti, ad annunciarlo il Centro Servizi Ambiente e Impianti, che si prepara adesso a gestire la fase del post-mortem della durata di 30 anni, durante la quale l'impianto verrà gestito per mantenere elevati standard di tutela e qualità ambientale, oltre che produrre energia dal biogas. Dall'11 settembre, infatti, l'impianto di Terra Nuova Brecciolini non riceve più conferimenti, rifiuti che l'autorità d'ambito della Toscana del Sud dovrà adesso inviare altrove, rivedendo i piani economici e i programmi logistici. L'impianto di riferimento per i rifiuti del Valdarno è quello di San Zeno, che dovrà essere sottoposto ad un ammodernamento, il cui avvio è previsto per inizio 2024, per quanto riguarda il termovalorizzatore, da 75.000 tonnellate e dove dovrà essere realizzato il biodigestore anaerobico per l'organico da 35.000 tonnellate. Il Centro Servizi Ambiente ed Impianti, pensa infine anche ai lavoratori, contestualmente fanno sapere, inizia il percorso che prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali per una parte del personale impiegato nell'ambito per l'esercizio ordinario. In quest'ottica, nelle scorse settimane, concludono, sono stati attivati percorsi adeguati con le organizzazioni sindacali.